Un bel matrimonio che secondo me risponde alla volontà di entrambi noi di poter associare il nostro marchio all'eccellenza del Made in Italy. Nel mondo, quando parliamo di vino italiano, tutto questo viene quasi sempre racchiuso in un modo di vivere italiano. E in questo associarci con un'eccellenza come Marinella e viceversa credo sia una straordinaria opportunità. L'eleganza non è una di quelle cose prettamente tecniche che trovi in una scheda degustativa, ma è forse uno degli elementi insieme alla bevibilità sul quale noi lavoriamo di più. E la stessa cosa fa Marinella da tanto tempo ed è soprattutto la scelta della materia prima che può dare un grande vino elegante o una caratta di grande eleganza parimenti.